Good morning a tutti voi e buona giornata. Festa di San Giuseppe, festa dei papà. Siamo al capitolo primo di Matteo, un brano che conosciamo molto bene. Giacobbe generò Giuseppe lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà la luce a un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa senza che egli la conoscesse e la diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Ed è quasi tutto qui quello che noi sappiamo di Giuseppe, perché come sempre cerchiamo di guardare a lui come a tutti gli altri protagonisti del Vangelo, partendo dal Vangelo. Giuseppe è un grande, eppure di lui veramente sappiamo pochissimo. In realtà non dice una parola nel Vangelo. Sono riletti, diciamo così, i suoi pensieri, chissà se a partire da un suo racconto o a partire dal racconto di Maria. Questo non ci è dato sapere, ecco. Però ci è dato sapere come descrive Matteo e in qualche modo dove sta la grandezza di Giuseppe in tante cose. Io adesso oggi ne sottolineo due, magari. La prima è questo, che a Giuseppe viene stravolta la vita. Giuseppe ha un sogno, ha un progetto, ha un progetto di famiglia con Maria, Nazareth, dove si è trasferito. E a un certo punto questo non si realizza. E lui deve cambiare in corso il suo progetto di vita. E potrebbe reagire in mille modi. Potrebbe reagire maledendo la vita, maledendo Maria, maledendo Dio. E ha questa notte, che forse è la notte più lunga della sua vita, ma nella quale Dio si fa presente. E anche a questa presenza di Dio, che a noi arriva sempre attraverso la parola, quindi attraverso la lettura del Vangelo, anche lì Giuseppe potrebbe dire, ma insomma è solo un sogno, me lo sono immaginato. E invece Giuseppe riesce a dire sì alla vita. E dire sì alla vita anche se la vita lo ha ferito, anche se la vita gli ha messo il bastone tra le ruote, potremmo dire. Pensiamo a tutto questo tempo di pandemia, in cui appunto, come ho ripetuto spesso, in determinate occasioni, noi potremmo semplicemente maledire Dio la vita e poi il governo e tutto quanto. o potremmo cercare a modo nostro di dire sì alla vita, perché la vita non si ferma. E non dobbiamo fermarla, non dobbiamo pensare che anche questo tempo sia semplicemente un tempo in cui stoppiamo la vita. No, non permettiamo questo. Cerchiamo in ogni modo, anche cambiando i progetti e come che avevamo e che sono saltati, ma di vivere, di vivere. E l'altro aspetto è collegato a questo, perché Giuseppe poi lo fa, ma non sappiamo le sue parole. Cioè, Giuseppe aderisce, vive la volontà di Dio e vive una sua nuova vocazione senza parole, ma agendo, vivendo. Allora, insomma, sappiamo che ogni tanto possiamo riempirci di parole, ma poi appunto si fatica a vivere. Grande, grande San Giuseppe e oggi un pensiero a tutti i nostri papà. Le cose belle della giornata di ieri. Ieri ci siamo visti per un bel progetto sull'oratorio, sulla sostenibilità, sull'educazione, la formazione, insomma, a diverse questioni che hanno a che fare con la salvaguarda del creato, con l'ecologia, con la consapevolezza del modo con cui viviamo e del mondo con cui viviamo. Una bella cosa che mi è piaciuta. L'inizio dei progetti sono sempre una bella avventura. C'è l'adrenalina della mente che deve uscire fuori, poi è difficile, ma è bello. Ale, buona giornata a voi!